Ciao a tutti da Saridore, bentornati su Spyro! In questo episodio affronteremo Colossus, un nuovo mondo, e nel tempo libero giocheremo anche a Hockey, sì, ma non aggiungo altro, buona visione! Ok Speruccio, eccoci qua dove abbiamo lasciato la volta scorsa! Va bene sì, allora, prima cosa da fare, pecore! Prima cosa da fare, pecore assolutamente! Eccole lì! Ok, poi, vediamo un pochettino! Ok, proviamo ad andare a Colossus! Non è già che siamo qua, dai! Allora, prendiamo questi innanzitutto! Ok, vediamo un pochettino cos'è! Sono curioso! Ah, ah, ok! Ebbè, vai che sei sexy! Ok, sei incazzato! Perfetto! E... Ah, salviamo la capra! Sì, ci sta, giustamente! Eccole! Chissà quanta patata prendi con quell'atteggiamento! Ah, preferisci la capretta? Eh, vabbè, degustibus! Aiuto! Ah, si è cazzata! Ok, si è cazzata la capra! Ok, eccoci qua! Allora, prima di tutto raccogliamo! Ok, poi vediamo un pochettino... Siamo cosa vuole, ciao fratello Harry! Eh, l'ho visto! Siamo riusciti a intrappolarlo chiudendo tutte le porte! Parla con gli altri fratelli! Ti apriranno i cancelli e ti condurranno da lui! Che culo! Va bene, ok! Ok, raccattiamo tutto! Detta fe! Ma mi attaccano! Ma attaccano! Ma caproni maledetti! Ok! Proseguiamo! Andiamo avanti! Vediamo un pochettino... Sparks, questa ce la lasciamo! Sono vite! Ok, raccolga anche qua! Andiamo su! Ciao! Dovrei riuscire ad aprirti questa porta! Eh, non concentrarti troppo, se no ti caghi addosso! Ah, interessante! Ok, andiamo avanti! Ah, lì c'è il mega caprone! Come lo tiriamo giù sto coso? Non lo so! Così! Ancora una? Ma sì, ancora una, dai! Ok, raccotta tutto! Raccogliamo tutto! Ok, queste sono da rompere accappate! Se statue non ci facciamo nocciolla! Ok, ah, lì c'è un altro caprone! Sì, eccolo lì! Ma sei scemo nel cervello! Un panguaino! No, vieni qua, panguaino! Che mi servi! Ok, di qua invece... Nulla! Un'altra statua! Qua c'è un altro scemo del villaggio! No, scemo del villaggio non mi dice... Ah, ok! Un lamento che guai! Ah, ok, va bene! Ok, qui a che punto siamo? Oh, ciao, Zoe! Eh, quello che ho fatto fino adesso, non volevo dire! Guarda qua dove cazzo l'hanno nascosti! Che poi non... Sono quelli più ovi e poi non li vedi! Ok, qua c'è un caprone! Qua c'è l'altro caprone! C'era! Qua c'è uno yak! Che muore malak! Io non so quello cosa sia, non lo voglio sapere! Ok, andiamo qui! Pinguino! Eh, che checchio! Avvisami! Non mi dire nulla tu, eh! Mi raccomando, Zoe! Ah, ok! Sconfiggi rilasciano particelle spirituali che attivano il potenziamento presente in quel mondo! Oh! Se il potenziamento è ancora inattivo, dovrai sconfiggere più nemici! Grazie! Ok, dobbiamo ammazzare ancora un po' di gente! Ma va bene, non dovrebbe essere un problemissimo, ecco! Pairo, prendile, grazie! Ok, andiamo giù di qua! Andiamo giù di qua! Ehi, guarda cosa so! Cosa sai fare? Mamma mia! Ok, mi domanda cosa serva! Ma va bene, intanto raccattiamo tutto qua, Spyro! Una vita! Piglia! Prendiamo una vita! Ok, mi porti su, grazie! Ascensorino! Ok, prendiamo anche queste! Andiamo di là! Prendiamo queste! Emo! Questi! Ok, proseguiamo! Andiamo avanti! Planerai più lontano se premi salto nel punto più alto della tua traiettoria! Grazie, lo sapevo! Ok, raccattiamo anche queste! Dove cazzo dobbiamo andare? Là! Ah beh! Perché serve qua, sai! Va bene! Va bene, è lo stesso! Qui cosa c'è? Un panguaino! Qua ci sono dei caproni! Qua c'è l'altro caprone! Qua c'è l'altro caprone! Ce n'è ancora uno caprone! Ma va bene! Ti piglio dopo! Ok! E tu dovresti essere l'ultimo? Sì! Credo di sì! Non credo ce ne siano altri, eh! In gioco mi inquietano quelle cose lì, lo sai vero? Sì che lo sai! Dove cazzo dobbiamo andare? Ciao, Ned! Grazie per l'ottimismo! Allora, qua c'è ancora della roba! Sì, ma non ci arriviamo! Ok, intanto andiamo da compare Ptigyu qua! Eh sì, certo! Oh! Come siamo gradevoli! Ok! Comunque, stavo facendo la guardia al nostro talismano sacro per impedire allo Yeti di mangiarselo! Ok, grazie! Se lo vuoi dare a me lo conterrò molto più che schifo! Ok, ripensandosi tanto brutto che te lo potevi anche tenere! Allora, torniamo un attimino indietro perché adesso il portale dovrebbe essersi attivato! Sì! Wow! Ah! Capito! Ok! Ho capito! Sparzo, non è che ci abbiamo lasciato della roba lì? Ok, voliamo sui tetti! Grazie, Spyro! Eccoli! Prendiamo tutto! Tutta sta roba qua! E... Dobbiamo andare di là adesso! Sì! Qua c'è un bucio! Boh, vabbè! Raccattiamo sta roba! E non solo! Ok, prendiamo sta roba anche di qua! La cosa mi inquieta, eh! Ah, ok! Pattina, pattina! E ora pattina anche! Vabbè! Ok, raccogliamo tutto! Ok, raccogliamo tutto! Dai, dai! Guarda quanta roba che c'è! Ok, ecco! Non è semplicissimo! Non è semplicissimo! Ma proprio per cazzi suoi! Però è divertente! Ok! Sparo lì, grazie! Ottimo! Ora raccattiamo questi! Ah, lì c'è un altro! Cosa vuole sto qua? Okip! Abbiamo scoperto che l'hockey è uno sport pacifico e rilassante che andrebbe di giocare contro il nostro portiere! Perché no? Sì! Hai due minuti per segnare cinque gol nella porta rossa! Ok! Sarò da tirare porchi, sì! Ah, bello! Ok! Domanda! Come faccio? Come faccio? Ah, ok, ok! E poi? Puttiamo! Oh, un gol! E se sei scemo non è colpa mia! Petta, petta! Spyro, ma porca! Ahia, bastardo! Guarda dove cazzo l'ha tirato! Guarda dove c'ho la l'ha tirato! E io tiro là! Gua, gua! Oh! Gol! E se sei incapace è nemmeno colpa mia! Petta, 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 petta! Ok, dai, Spyro raccoglila! Raccoglila! Ma non così! Minchia, spero che abbiamo una mira che non fa schifo di più! E vieni qua! Guarda dove cazzo rimbalza! Ok, tira! Gol! Woo! Ok, dov'è? Eeeh, petta! Petta, 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 petta! Vieni qua! Vieni qua! Spyro, ma che cazzo fai? Ma porca Eva! Dai, dai! Vabbè, gol da sola! No! Ma vaffanchi urlo! Vieni qua! Eeeh! Pigliala! Pigliala! Tira! Gol! Wow! Haha! Ok, ce ne manca uno! Sì, ce ne manca uno! Dov'è? Ma sei un uomo di schifo! Ok, l'abbiamo presa! Eeeh, guarda! Palo, gol! No! Bastardo! Dov'è? Minchia, telecamera sei un incubo! Lo sai, è vero? Sì che lo sai! Ma dai! Porca troia! 12 secondi! Dai, Spyro! Dalla distanza! Eeeh, gol! Grande! Prendi questa! Ce l'hai fatta! Abbiamo preso le sfere! Ok! Vuoi provare una partita uno contro uno? Ah, pure! Ok, dai! Vediamo! Eh, figurati! Ok! Dai! Ah, pure! Eeeh, uno contro uno! Sono due contro uno! Ok, l'abbiamo presa! Aia! C'è un bastardo! No, 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 minchia! Quello è incapace! È incapace! Ah, no! Vieni qua! Dammela a me la palletta! Dammela a me il disco! Oh! E abbiamo fatto gol! Ottimo! Ok, di nuovo! Di nuovo! Ma se io la tiro tipo là così? Facciamo gol! Vedi? Due! Due a zero! Ancora più semplice, sembra! Ok! Dai, 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 dai! Eh, portiere, faccia il suo dovere! Faccia il suo dovere! Vuol dire passa, me la imbecille! Ok, raccontiamola! Dai, che l'abbiamo presa, di nuovo! E gol! E vai, grande! Tra parentesi, io odio il calcio, eh! Oh, l'abbiamo presa al volo! Wow! E gol! 4-0, signori! Porca Eva, ma è semplice, sta cosa! Aia, aia! Passiamo, ma... C'hai una merda, lo sai, vero? Oh! Eh, citti, te citto, anch'io! Aia! Dov'è? Dove cazzo è? Ma va a fanculo, un'ora per girare, poi è là! Spero ce la facciamo a prenderla! Sì, ce l'abbiamo fatta! Guarda, tiro da lontano e gol! 5-0! Vieni, prendi questa. Se la fissi troppo a lungo, potresti non vedere più niente. Che culo! Ok, abbiamo preso un'altra sfera! Ok! Spettacolo! Ok, dai, torniamo indietro. Vediamo un po' questo. Cos'è? Vai a casa? No, no, no! Non vado a casa! Dobbiamo fare ancora delle cose qua! Ok, allora, siamo arrivati qua! Ma qua ci vuole qualcosa? Un razzetto? Credo, non lo so! Muori? Grazie, eh! Gentilissimo! Ok, ah, è il caprone! Ho visto dove è il razzetto! Ok, raccogliamo tutto qua! Non mi sembra di vedere altro, no? Allora, il razzetto è lì! Allora, il razzetto è lì! E non c'è da solo, eh! Ok! E siamo di nuovo qua? Ok! C'è una fatta! Allora, raccogliamo prima tutto! Ok! Ok, accendiamo questo che dovrebbe far esplodere quella lì! La madonna! Eh, placate! Ok, torniamo là! Ok! E dovremmo aver raccolto un bel po' di roba! Ok! Ah, qua ci abbiamo un altro coso! Aspetta, ecco! Prima rubo, poi arrivo! Ecco! Ok! È scappato... Non so chi! Grazie al cielo hai fatto scappare quello spirito maligno! Ah! Ma ora si nasconderà nelle statue! Che culo! Se dai fuoco alle dieci statue, sono sicuro che se ne andrà per sempre! Sì, sicuro! Ok! Vabbè, arrostiamole! Ok, due statue le abbiamo già fatte fuori, eh! Ok! Dobbiamo girare in lungo e in largo, a quanto pare! A quanto pare sì! Ok, ne abbiamo trovato altri due! Ottimo! Ok! Qua ce ne è un altro! Ce ne mancano quattro! Ok! Torniamo su di sopra! Vediamo un po'! Dovrebbero esserci, eh! Per qua! Oh! Eccone un'altra! Ok! Ce ne mancano tre! Ok! Andiamo... Eh! Guardala qua! Dov'era l'altra! Abbiamo trovato una zona segreta, Spairo! Ok! Rompiamo tutto! E raccogliamo anche tutto, ciò che ci siamo, eh! Abbiamo trovato tutto! Ottimo! Perfetto! Cioè, tutto quasi! Ci mancano un po' di robe ancora, eh! Ok! Abbiamo trovato un'altra statua! Ci ne manca una! Lo trovo là! E abbiamo trovato la decima statua! Benfa! Ok! Sei riuscito a mandare via lo spirito maligno! Tieni questa! L'ho presa in fastito dal tempio! A loro non serve! Ok! Va bene! Accettiamo tutto noi! Se è gratis ancora di più! Ok! Abbiamo trovato tutte le speronze! Ok! Abbiamo raccolto tutto! Il mondo completato al 100%! Sì! Colossus sì! Ok! Torniamo a casa! Abbiamo completato il mondo, finalmente! Ok! Lamento! Mal di denti! Non è così che funziona! Ah madonna! Che cazzo è? Ok! Forse è stato un po' troppo eccessivo! Ok! Arriviamoci a foresta d'estate! Colossus completato al 100%! Wow! Ok! Per ora fermiamoci qui! Abbiamo completato il mondo al 100%! Abbiamo trovato tutto! È la prima volta! Perché negli altri mondi ci mancano ancora delle abilità! Nel prossimo episodio andremo avanti! Abbiamo ancora dei mondi da scoprire! Abbiamo ancora tantissime cose da fare! E tantissime abilità da imparare! Comunque! Se il video vi è piaciuto mettete like! Condividete! Iscrivetevi al canale! Fatevi un cazzo che volete! Tanto ormai lo sapete! E noi se vorrete ci vedremo in un prossimo episodio! Ciao! Ciao! Grazie a tutti.